Ormai siamo quasi a scadenza di questo mandato in provincia da presidente per Diego di Bonaventura. Intanto le chiedo se ci sono novità proprio riguardo ai tempi e ai termini di questo suo mandato. No, novità ancora niente perché siamo così presi dalle tante cose da fare che non ci stiamo occupando quando si tornerà le elezioni, penso per fine anno. Sono felice, ma adesso così due o tre cose veloci che stiamo chiudendo uno dei quattro assi, quello di fare l'ordinario o straordinario, una delle tre grandi opere importanti e strategiche. Mai finite, iniziata da 15-16 anni, il famoso ponte ciclopedonale, che non vi dico oggi la data ma siamo lì per aprirlo, il ponte di Castelnuovo, un'altra storia di 16-20 anni, lo vareremo per fine dicembre, e il famoso braccio a mare di Roseto, che adesso sto per partire per l'ennesima riunione per chiudere l'ultimo tratto, in parallelo, lo dico e ringrazio qui la regione, il presidente Marco Marsile, il suo segretario, perché con gli studi, non con, adesso ho vinto io e voglio farmi una strada a casa mia, con gli studi, con i fabbisogni, ecco abbiamo, siamo riusciti a farci finanziare il famoso lotto della terra a mare, il quarto lotto, che già sta a via e a VAS e in 3-4 anni lo avremo, ma abbiamo fatto nello studio strategico delle opere importanti per il territorio, era collegare la famosa terra a mare con il versante marchigiano ed Ascoli, e anche qui ci hanno finanziato tutta la progettazione esecutiva, il primo lotto, che paste dalla bretella lì che finisce a Campli, per arrivare, passando per 3,5 km di galleria, sotto Ancarano e arrivare ad Ascoli, con la strategicità delle opere, perché senza infrastruttura una provincia non cresce.